Occorrono controlli più serrati per garantire maggiori tutele agli autisti, lo chiedono i sindacati dopo l'ennesimo episodio di violenza. Una sassata lanciata verso l'autista del bus che ha spaccato il finestrino offrendo lo stesso conducente è successo a Badia a Settimo in un bus della linea 26. In base a quanto raccontato dall'autista, la furia dell'uomo sarebbe nata dal fatto che la corsa precedente era saltata. Sul mezzo, ha raccontato l'autista, c'erano due signore, un ragazzo e lui che continuava a discutere. A quel punto sono intervenuto e gli ho chiesto di scendere. In contemporanea ho chiamato i carabinieri. Una volta in strada ho iniziato a riprendere la scena col cellulare perché ho intuito che non era ancora soddisfatto e infatti si è avvicinato ad una iuola. Ha raccolto un sasso, si è avvicinato al lato guida e l'ha scagliato verso di me con tutta la sua forza. I vetri hanno provocato all'autista alcuni tagli sul corpo. Dal pronto soccorso di Torregalli è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L'aggressore, che avrebbe a suo carico diversi precedenti, è stato identificato grazie ai filmati dell'autista e al termine delle formalità a diritto. Denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.